Un bilancio drammatico, quello relativo alle denunce per infortuni sul lavoro in Puglia. Da gennaio a settembre 2023 sono state 1653 le denunce presentate nel settore dell'agricoltura, dove si contano anche nove incidenti mortali. Ultimo episodio, quello avvenuto ieri ad Andria, dove a perdere la vita è stato un uomo di 38 anni, investito dall'esplosione di un tubo mentre svolgeva la sua attività all'interno di un oleificio, lasciando moglie e figlia di tre anni. Sulla vicenda è intervenuta anche la procura di Trani, che ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di Gnoti. Nel 2022 solo 150 ispezioni nel settore della nostra regione. Si legge in un comunicato della Flai CGL Puglia, il governo non affronta l'emergenza sicurezza sul lavoro, anzi di mezzi risarcimento per le famiglie delle vittime. La tragedia, l'ennesima, consumatasi ieri in un frantoio tra Andi e Corato, dove ha perso la vita un lavoratore di 38 anni, deve spingere gli addetti ai lavori e l'opinione pubblica a una presa di coscienza forte rispetto a un fenomeno che va affrontato in modo serio, anche facendo attenzione al linguaggio. Commenti il segretario generale della Flai CGL Puglia, Antonio Gagliardi, basta parlare di morti sul lavoro, queste sono morti per lavoro. Ai suoi cari il cordoglio della nostra organizzazione, aggiunge Gagliardi, siamo di fronte all'ennesima morte che non può ridurci a commiati e frasi di circostanza. Tutta la CGL chiede da tempo forti investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma a questo governo, commentano, al quotidiano bollettino di guerra, risponde tagliando il budget destinato al risarcimento alle famiglie delle vittime e non assumendo provvedimenti che rafforzino, ad esempio, la prevenzione e quindi gli istituti ispettivi. Il segretario della Flai Pugliese cita i dati del report 2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nella regione, che conta oltre 30.000 imprese agricole a conduzione non familiare, le ispezioni in materia di sicurezza in agricoltura sono state 150 dei 957 lavoratori interessati complessivamente dai controlli. Per 310 di loro sono state elevate sanzioni proprio per la violazione di norme sulla tutela della salute e della sicurezza. In 403 casi si è riscontata la presente in azienda a nero e il tasso di irregolarità complessivo è stato del 55%. Spesso i lavoratori soffrono il ricatto di un reddito a qualunque costo. Non potendo poi esigere rispetto delle norme e chissà quanti infortuni sfuggono alle statistiche.